Maria che sei fatto magro, ma mangi! No, io ingurgito solo aria e caco palloncini! E quindi tu che fai nella vita? No, siccome conosco tuo fratello da un paio di anni, ma non mi ha mai parlato di te! Anna, ma con chi stai parlando? Con il tuo fratello gemello! Oh, guarda qua! Aia! Si vengono tutte le costole, poi è una chitarra! Sì, l'ho capito che già siamo cinque in macchina, ma se si aggiunge Claudio non è un problema, perché tanto lui è magro e non conta niente! Grande considerazione, io! Sì, merendine, nutella e biscotti, che vuoi? No, no, niente grazie, perché non mi voglio appesantire! Ma che fai? Un selfie! Sì! Una radiografia! Una selfie-grafia! Ma mangi! Cioè vuol dire che ti abbraccio, abbraccio pure me! E perché io non ho festa? Prendi uno e abbracci due! Ma mangi! Ehi, sto mangiando, sto mangiando, perché i magri mangiano pure! Lo vedo che mangi! E infatti ti dovresti vergognare, perché tu sei uno di quelli che mangia come un porco e non ingrespa mai! Schifo! Ma però una cosina, perché... E per principio non devi mangiare niente! No, 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 la panna! No, no!